Una ricca rassegna teatrale e musicale estiva in programma a Rimini per dieci serate dal 21 luglio al 5 agosto. Torna il festival Le Città Visibili, giunto alla sua quarta edizione e ospitato nella splendida cornice del giardino di Palazzo Lettimi. Intende quasi proprio riflettere e pensare attraverso anche gli elementi, i ruderi, i resti e le tracce che quel luogo ha avuto nella storia, quanta stratificazione storica c'è stata perché lì sotto abbiamo il teatro romano, siamo nei resti di un palazzo che dal 500 al 700 ha mostrato il suo splendore. Numerosi gli artisti affermati a livello nazionale e internazionale che vi parteciperanno? Sono tante le serate, tre di concerti e tre di spettacoli tra i quali posso ricordare il concerto di Roberto Dell'Era che è performer e bassista degli After Hours, ci saranno i ragazzi del Terzo Segreto di Satira in live che sono conosciutissimi al grande pubblico per i loro video web e in televisione. Un progetto speciale che nasce quest'anno come produzione del festival grazie al progetto Il Giardino Segreto che ha vinto il bando Giovani per il Territorio dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e le notti bianche. L'ingresso è gratuito, questo per noi è molto importante perché significa aprire a tutti un evento culturale di qualità e di ampio respiro.